Ennesima dimostrazione di come l'Inter quest'anno sia una squadra di alto rango perché l'Atletico Madrid effettivamente ha confermato di essere squadra diversa rispetto allo stereotipo che si ha dal passato della squadra del Ciolo l'Inter si è dimostrata in casa nella partita d'andata per una squadra di livello direi anche superiore ma soprattutto di standing superiore e io credo che sia una cosa ereditata dalla passata stagione ma soprattutto dal cammino fatto in Champions ma in particolare dalla finale giocata in Champions l'Inter dalla finale di Istanbul esce senza Coppa ma esce con quel click, con quel passo avanti mentale ma direi strutturale che poi le permette di riversare come una cascata fin dalla prima partita di questa stagione in campionato e in Coppa questa dimensione è molto importante, la partita di stasera la vinci anche come eredità di quanto fatto l'anno scorso secondo me mi sto convincendo sempre di più specialmente in finale perché il cammino della Champions dell'anno scorso poi veniva anche giudicato con una superficialità che spesso è presente però il Porto, il Benfica l'Inter ha avuto una semifinale con un derby che non bisogna stare a raccontare ma anche nel resto del percorso aveva fatto bene però la finale col Manchester City essere arrivati così vicini e aver giocato così vicino alla squadra più forte di tutte secondo me è la chiave per capire il perché dal primo minuto di questa stagione l'Inter si sia dimostrata grande